Grida allo scandalo l'opposizione regionale per il nuovo super ticket sanitario introdotto dalla Giunta Vendola. Ben 47 euro su 108 tipologie di ricoveri ospedalieri che d'ora in poi si potranno effettuare solo a pagamento in dei service un solo giorno di degenza. La delibera approvata a giugno scorso è stata ratificata dai direttori generali delle sei ASL e scatterà tra qualche giorno. Per Surico, Forza Italia, il governo regionale ha tentato di occultare una notizia che ha dell'incredibile. L'esponente dell'opposizione attacca a testa bassa. Oltre alle vergognose liste d'attesa per i ricoveri, i pugliesi subiranno l'ennesimo prelievo fiscale. Un balzello che non risparmierà neppure le cure chemioterapiche per i tumori, oltre a toccare interventi di routine come l'ernia inguinale, il distacco della retina, le malattie dell'occhio, il diabete, la recomposizione chirurgica delle fratture ossee. Ma l'assessorato alla salute lo smentisce. La giunta regionale si è semplicemente adeguata ad una scelta del ministero, ratificata nel patto della salute da tutte le regioni. L'obiettivo è svuotare gli ospedali dai ricoveri inappropriati, il 10% del totale che spesso impediscono la cura delle urgenze, di cui la blacklist dei ticket. Il 75% dei pugliesi però non lo pagherà in quanto già esentato per motivi di reddito o di patologia collegata.